Sì, grazie per l'opportunità perché per un medico non c'è cosa più bella che collaborare a tutto ciò che fa crescere la medicina, soprattutto a Napoli, una città che ha molto bisogno di questo, dove ci sono delle grandi professionalità, delle grandi intelligenze, c'è una scuola universitaria di un certo livello e quindi è un onore, deve essere un onore per qualunque medico partecipare a una manifestazione a gel. Noi lavoriamo molto con la prevenzione, infatti pensiamo che lo sport sia aiuto moltissimo a prevenire qualunque tipo di patologia, perché qualunque patologia comunque porta a un disagio mentale e lo sport aiuta a superare il disagio mentale. Però non dobbiamo dimenticare che qualunque tipo di attività sportiva va fatta e deve essere fatta in assoluta sicurezza. Noi lavoriamo molto in questo, cerchiamo di dare il nostro contributo proprio per rendere lo sport sicuro sia ai diretti professionistici, perché come voi sapete succede purtroppo ogni tanto cose molto spiacevoli, però insomma io credo che stiamo riuscendo a fare qualcosa di buono, soprattutto prevenendo le patologie più brutte, la morte improvvisa e poi per tutto il resto. Niente, noi siamo contentissimi, io sono contento del fatto che il Presidente abbia pensato di coinvolgere in questa cosa e sono contento che il Caccio Napoli sia molto sensibile a queste manifestazioni, quindi credo che questo colubbio porterà sicuramente a qualcosa di costruttivo e di positivo per tutti, per la città di Napoli, per lo sport, per la medicina e soprattutto per le persone che hanno bisogno. Assolutamente, grazie.